I ragazzi visti in campo mi hanno dato veramente un'ottima impressione, naturalmente la società già la conoscevo, la serietà e come hanno impostato il lavoro, perciò mi sono ritrovato qui a Pistoia improvvisamente, però sono molto contento di stare qui sicuramente. Sì assolutamente, perché ho visto la Pistoia giocare e avevo un'ottima idea che fosse una buona squadra, in questi due giorni ho fatto fare un po' il full immersion a questi ragazzi, perché comunque non avendo tanto tempo a disposizione per la partita, ho cercato di fare l'allenamento oggi doppio, ieri uguale, domani uguale, per cercare di aiutarli un pochettino per questa partita difficile che abbiamo con l'Alessandria. Ma che merite mi ero fatto? Mi ero fatto che era una buona squadra, mi ero fatto l'idea che una volta l'ho vista giocare bene, ho fatto delle prestazioni eccellenti, come qualche volta magari prestazioni un po' al di sotto di quello che aveva fatto vedere precedentemente, però ripeto, da fuori ho avuto sempre un'ottima impressione di quello che era la Pistoia in campo. Per quello che riguarda il modulo, sono ancora in fase di studio, sto parlando naturalmente con i ragazzi, perché voglio aiutarli, soprattutto per quello che riguarda oggi la fase difensiva, che è molto importante per quello che mi riguarda, quindi oggi vorrei dare la prima certezza, per me è una buona fase difensiva. Ho visto che questa squadra subisce troppi gol e nello stesso tempo ci ha abituato a fare sempre gol, subiti 32-32 credo, perciò è una squadra che gol lo trova, lo cerca, però lo prende anche, quindi oggi il primo aspetto che vorrei curare è proprio la fase difensiva. Sono arrivato adesso, quindi oggi penso che l'unico input che posso dargli è il livello aumentare, dargli quelle sicurezze che ogni singolo giocatore deve avere, quindi ho fatto già collochi personali con loro in campo, hanno lavorato benissimo, però penso che oggi il lavoro di due giorni non posso, chissà quanto posso incidere, quindi oggi dovranno essere molto bravi loro a interpretare questa partita. Mi ha detto bene, è un rush finale difficile, soprattutto le prossime quattro sono quelle forse più impegnative, visto il valore dell'avversario, però si devono fare, perciò ragazzi ho detto e ho specificato bene che all'andata mi sembra che la Pistoiesi abbia messo in serie difficoltà l'Alessandria, quindi oggi vuol dire che, per carità, l'Alessandria è una buonissima squadra, però ce la giocheremo assolutamente perché cercheremo di ottenere dei punti che per noi sono importanti. Assolutamente, sono qui a Pistoia proprio perché non voglio riscattare, precedentemente ho avuto qualche esperienza negativa, però non sto a andare nel particolare perché sono cose abbastanza personali, però sicuramente c'è una gran voglia da parte mia, ripeto, ho detto subito sì alla chiamata del Presidente della società, quindi sono contento di stare qui e spero di fare un buon lavoro. Grazie. Grazie.